tu 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 fermo liiii una porta conduce la libertà ma l'altra conduce a morte certa si ma una porta dice sempre la verità mentre l'altra invece mente no invece ma cosa non è vero una porta dice sempre la verità e l'altra solo menzogne no invece da quando da sempre di che dia mi ne parli io penso che entrambe dicano la verità come possono entrambe dire la verità stai mettendo no invece si invece no invece senti puoi farci solo una domanda che non può certo che può no non può si che può non credo che tu sia completamente onesto ma che quello è il punto uno dice la verità e l'altro mente credo che dovremmo rivedere questa cosa senti lui deve fare una domanda uno dice la verità e l'altro no lo deve capire chi è chi è un enigma no invece si lo è ehi guarda oh merda è morto no 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 è si che lo è beccato è e